Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buon inizio di giornata e un buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori di Rossini TV che ci seguite sul canale 633 del Digitale Terrestre in diretta streaming sul sito di Rossini TV e in diretta Facebook sulla nostra pagina di Rossini TV. Ben ritrovati a Buongiorno Rossini, il nostro consueto spazio del mattino dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Sono le 7.20 di lunedì 16 novembre, siamo in diretta dagli studi di Rossini TV per leggere insieme a voi le prime pagine dei quotidiani locali Resto del Carlino e Corriere Adriatico con le cronache appunto della nostra provincia. Cominciamo dal Resto del Carlino, cronaca di Pesaro con in prima pagina Zona arancione, l'ombra di Ricci, Elisabetta Foschi accusa il sindaco, c'è anche la sua mano dietro la decisione come ai tempi di Ceriscioli. In prima pagina però la foto di riferimento è dedicata al capolavoro di Franco Morbidelli, trionfo a Valencia del pilota residente a Babuccia di Tavuglia, Rossi è invece dodicesimo. La sanità, pronto soccorso si cambia, al via le dimissioni rapide. L'intervista è al primario, gnudi del pronto soccorso di Pesaro. Marche Nord ora si liberano i posti letto, questo il risultato dell'ultimo bollettino. E poi due lutti per quello che riguarda la città di Pesaro, l'addio morto il professore Ettore Franca strappato dal coronavirus e si è spento anche Edo Ziccarelli, campione di vela e di amicizia. E' partita la consegna dei buoni del comune, i buoni per le famiglie, il sindaco si inventa Babbo Natale, consegnate strenne da 100 euro. Nuove regole in centro storico, Umberto Carriera è il ristoratore impenitente, lo vedete qui in foto, che va contro mano e si prende l'ennesima multa, non rispettando appunto i nuovi sensi di marcia in centro storico anche per i pedoni. Poi lo sport, calcio serie C, garanzia Bosco, tutto il possibile per salvare la vispesero. Le rassicurazioni del patrono in società, ma la squadra è sempre più in crisi. Basket, ipotesi WL, si torna in campo il 6 di dicembre, difficile che domenica si giochi contro Reggio Emilia e allora possibile ripartenza da Treviso. E questa era la prima pagina del resto del Carlino, andiamo a consultare anche quella del Corriere Adriatico. A cominciare dal mercato di Pesero con la Stradomenica, presidi rafforzati. Dopo la Stradomenica, vigilanza più stretta pure al San Decenzio, sanzioni e controlli in centro. Per quel che riguarda le terapie intensive, l'Umbria chiede aiuto alle Marche, ancora sopra 700 i positivi nella Regione. E poi le proteste, la foto di riferimento riguarda Afano, la protesta a sorprese con i ristoratori che sfilano in corteo. Lutto per il professor Ettore Franca, patron dell'Olia. E poi ricci e volontari consegnano i buoni destinati alle famiglie pesaresi. A Tavuglia, sulle di gestore, l'ex sindaco parla e dice costruirlo a Talacchio, una scelta scellerata. Ancora Sanità con l'intervista a Richeldi del Comitato Tecnico Scientifico, che dice zona arancione una protezione per le Marche. Afano il progetto riguardante l'Isippo. In campo, i fanesi nel mondo per una mostra. L'obiettivo è sempre quello, riportare la statua in Italia. Per quanto riguarda lo sport, Serie C la vis soffre, ma sono certo che risalirà. Parla il presidente Mauro Bosco. E queste erano le due prime pagine di Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Cominciamo la lettura all'interno, proprio dal resto del Carlino, che si concentra sui buoni per un milione di euro che verranno distribuiti tra bonus spesa, bonus relativi ai bambini fino ai 14 anni e bonus per la cessazione di attività aziendali in città. Questo è appunto il modo di aiutare le persone e i cittadini dopo la prima ondata di Covid. Per l'ondata di Covid sono infatti derivati questo milione di euro così suddiviso. Sono 6.000 le famiglie che lo riceveranno. Ogni bonus è da 100 euro e dovrà essere speso nei negozi della città. L'incredulità di molti. Vedete qui in foto Matteo Ricci, che è stato il primo a consegnare i buoni a una famiglia in Via Vico, a Muraglia. Buono spesa da 200 euro alla mamma Monica Marte per le sue due bimbe. Dunque il sindaco ha dato il via a questa consegna che continua quartiere per quartiere anche oggi, così come per tutta la settimana. C'è anche un caso particolare citato dal Carlino, che il sindaco e anche 5 assessori avrebbero diritto al contributo per i figli sotto i 14 anni, ma hanno rinunciato appunto per questioni di opportunità. Cambiamo argomento e passiamo all'ennesima protesta di Umberto Carriera. Questa volta non ci sono state manifestazioni in piazza, ma in centro c'è sceso comunque Carriera. Per andare a fare acquisti in un negozio d'abbigliamento, ma anche per esternare il suo dissenso verso l'ennesimo provvedimento, in questo caso comunale, del senso obbligato di marcia per i pedoni. Senso di marcia che è iniziato questo weekend. Qui vedete una foto con appunto le transenne che nel centro storico regolamentano appunto la nuova direzione dei pedoni, direzioni obbligate. E invece Carriera ha forzato il blocco ed è stato multato. La quarta sanzione da 400 euro che mi fanno dice, volevo solo fare acquisti a mio figlio, ma la polizia mi ha seguito persino in negozio. E dunque continuano le esternazioni di Carriera, ma ci sono anche in questo articolo i pareri di alcuni commercianti che dicono siamo a terra da tre settimane, il cambio di marcia dei pedoni ormai non incide per noi. Sensi unici che debuttano anche al mercato, dunque come vedete anche qui la transenna con gli accessi sbarrati in piazzale Carducci e direzioni obbligate. Debutta il mercato con i sensi unici, ma tra le bancarelle ci sono solo i pesaresi. Nella zona arancione vietati gli spostamenti tra comuni e gli ambulanti dicono sono stati persi tantissimi clienti che accorrevano a questo mercato della stradomenica. Continuano anche le manifestazioni di dissenso non coordinate, ma quelle singole dei vari ristoranti o pubblici esercizi. In questo caso l'articolo si riferisce al mare mosso di Viale Trieste, striscioni anti-chiusura. Con uno dei striscioni che cita se chiudere è un diritto non pagare le tasse è un dovere. Dunque un messaggio abbastanza eloquente. Un altro ristoratore della locanda atipica, il confine tra Pesaro e Fano, ricorda che siamo stati costretti a regalare e gettare cibo per 1.500 euro. Riferimento questo alla sorpresa di vedersi obbligati a chiudere la domenica come vuole l'ultima imposizione della zona arancione. Ma molti ristoratori avevano già fatto scorte di cibo da servire ai clienti in questo weekend. Dunque non è stato l'unico caso del genere che ha costretto a dover gestire in qualche maniera questo cibo in eccedenza. In questo caso si è andati ai regali delle scorte alimentari. Passiamo a un caso politico sollevato da Elisabetta Foschi, coordinatrice provinciale di Forza Italia, che dice come ci sia lo zampino di Ricci dietro la zona arancione. O meglio non lo dice ma è evidente dal suo profilo, da un suo intervento Facebook, come il riferimento sia al sindaco Ricci. Vedete qui la Foschi e qui Ricci con una polemica appunto sulla zona arancione. La Foschi sostiene che è come se è un'ipotesi ma ci vedo la sua mano come ai tempi di Ceriscioli. La Foschi non fa nomi ma non fa nemmeno niente per evitare che quel qualcuno da lei evocato venga facilmente individuato in Matteo Ricci. Così scrive il resto del Carlino parlando anche di un retroscena come Ricci in prefettura auspicasse misure restrittive da enti superiori. La Foschi dice mi viene il sospetto che dietro questo passaggio repentino da zona gialla a zona arancione ci sia lo zampino di qualcuno e poi appunto allusioni che riconducono al primo cittadino pesarese. Intervista che riguarda la sanità a Pesaro. Intervista a Umberto Gnudi, primario facente funzione del pronto soccorso del San Salvatore, che spiega come si è partiti con la procedura delle dimissioni rapide. Da oggi c'è un nuovo percorso ambulatoriale, monitoraggio dopo 48-72 ore per i pazienti che rischiano peggioramenti. Una nuova gestione del paziente Covid che inizia oggi quando in una tenda davanti al San Salvatore saranno visitati i pazienti dimessi due o tre giorni fa. Gnudi definisce la situazione in reparto impegnativa ma al momento non drammatica. E dal bollettino sui dati riguardanti i contagi arrivano numeri confortanti in ospedale e si liberano addirittura dei posti letto. Numeri che però si riferiscono alla provincia perché è sostenuta la crescita di contagi nelle Marche 707 ma Pesaro si ferma a 154. Due invece i nuovi decessi in provincia. Andiamo avanti e passiamo a uno dei lutti che vi abbiamo citato in prima pagina, quello di Edo Ziccarelli, belista, amico di tutti, lo definisce il Carlino. Si è spento a 75 anni Edo Ziccarelli, lo vedete qua al timone del suo moonshine col quale ha ammietuto successi in tutti questi anni di Regate Veli che è stato uno dei grandi protagonisti di questi decenni della Pesaro Rovigno. Ziccarelli si è spento a 75 anni a causa di una malattia, era titolare anche del Nautic Store e nell'articolo si ricorda la sua grande passione per il mare, per la vela e per le sue barche. Nell'ultima, nell'edizione, si ricorda come nell'edizione, nella 31esima edizione della Pesaro Rovigna, l'applauso più grande era stato per lui pieno di affetto e ammirazione. Il funerale sarà mercoledì alla chiesa del Porto con i suoi ragazzi che, scrive il Carlino, verranno in divisa appunto da gara velica. Altra protesta, l'abbiamo detto, c'è stata a Fano, una protesta a sorpresa da parte degli aderenti di Ristori Italia. La crisi uccide più del virus, dicono i ristoratori, è stata bloccata la rotatoria di fronte all'arco d'Augusto. Vedete qui alcuni momenti di questa manifestazione a Fano. A parlare nell'articolo è Lorenzo Vedovi, uno dei responsabili di questa manifestazione, che dice che il presidente Acquaroli ha ricevuto un diktat dal governo Conte. Polemiche che continuano anche a Urbino, con un intervento molto polemico su Facebook da parte di Vittorio Sgarbi, che si riferisce al PD di Urbino con l'ennesima provocazione. Voi siete i morti e io mangio dove mi pare. Questa è la coda polemica dopo anche la cena effettuata con Umberto Carriera, il ristoratore protagonista di tutte queste proteste a Pesaro, e il sindaco di Urbino Gambini, cena che è stata fatta dai tre a San Marino con tante polemiche, proprio in un luogo dove questi divieti al momento non ci sono, per quel che riguarda i ristoranti e le aperture serali. Ultima pagina della cronaca del resto del Carlino, dedicata all'addio all'agronomo Ettore Franca. Aveva 78 anni ed è morto in ospedale a causa del Covid. È stato un'anima dell'Accademia Agraria, ha pubblicato tanti libri. È morto ieri all'ospedale di Pesaro, dove era ricoverato da una settimana per il coronavirus, che ha calpestato senza nessun ritegno anche la vita di tanti amici e conoscenti. Professore molto benvoluto, ha insegnato all'Istituto Agrario Antonio Cecchi, e poi tecnologia degli alimenti nel corso di scienza dell'alimentazione all'Università degli Studi di Urbino. Fu insegnante e fondò anche l'Olea, il laboratorio degli assaggiatori. E questa era l'ultima notizia di cronaca del resto del Carlino. Prima di andare a leggervi lo sport sul quotidiano sportivo, andiamo all'interno del Corriere Adriatico, con le notizie che cominciano dal consueto approfondimento regionale sulla sanità. Corriere Adriatico che ricorda come i contagi non si abbassano e c'è l'appello del governatore Acquaroli rispettate tutte le regole. Ieri altri 700 casi positivi su 2.289 tamponi, un'incidenza di casi positivi su tamponi effettuati del 30%. 8 le vittime del virus aumentano gli infetti in provincia di Pesaro 154 e nel Maceratese 224. Va ricordato che però la provincia di Pesaro continua ad essere la meno colpita dalla crescita dei contagi. Proseguiamo e vediamo la interessante intervista effettuata dal Corriere Adriatico al direttore dell'Unità di Pneumologia del Gemelli di Roma, Luca Richeldi, membro del Comitato Tecnico Scientifico, lo vedete qui in foto. e ostento ottimismo per quella che è la zona arancione, che non è una punizione ma è un dispositivo di protezione per le marche. Richeldi dice che va tutelato il sistema sanitario che deve assicurare cure adeguate a tutti i cittadini. Poi ci si addentra in alcune tematiche mediche farmacologiche sull'ipotesi di cura con azoto, plasma e idrossiclorichina non sono quelli che si usano ora. Tematiche del Covid e della sanità che si spostano anche sull'analisi del Corriere Adriatico in merito ai Covid Hotel. Lo sprint dei Covid Hotel, due sono già operativi, altri otto pronti a partire. L'assessore regionale alla protezione civile, Aguzzi, dice che sono attivi 104 posti letto per le quarantene. Patto con gli albergatori fino al 31 dicembre. 55 euro al giorno per ogni camera occupata. Qui c'è anche un grafico del Corriere Adriatico che indica gli alberghi per le quarantene. Una decina di alberghi individuati, anzi proprio dieci, le strutture nelle Marche con 533 camere disponibili fino al 31 dicembre. Tra gli hotel disponibili segnaliamo che in provincia di Pesaro si è disponibile l'hotel Baia Flaminia. L'ex Flaminio potrebbe essere convertito in Covid Hotel. Andiamo avanti e passiamo all'analisi dei nuovi sviluppi in città a Pesaro per quel che riguarda i controlli e anche le imposizioni come quella dei sensi di marcia obbligati e controlli nelle attività rimaste aperte. Una di queste è stata il mercato. Dopo la stradomenica tocca al San Decenzio. Vedete qui una serie di immagini che evidenziano sia le transenne sia i controlli per quel che riguarda il mercato di ieri. Polizia locale e protezione civile in forza garantire i percorsi obbligati. Intanto anche qui nell'articolo si ricorda come Umberto Carriera abbia passeggiato in centro contromano per protesta e è stato multato. Così come nella giornata di sabato sono arrivate quattro sanzioni per varie norme non rispettate. C'è stato il mercato della stradomenica, non c'è stato quello dell'antiquariato. Delusioni per l'assenza del mercatino dell'antiquariato. Molti non sapevano che fosse stato annullato. Nella stessa pagina c'è appunto un ampio approfondimento sulla protesta invece a Fano. Ristoratori e baristi in corteo puniti invece di sostenerci. Un centinaio di manifestanti a Fano a testimoniare la frustrazione del settore. Meritiamo rispetto, vedete qui nelle foto nel centro storico di Fano, una protesta che è stata intitolata simbolicamente senza preavviso riferimento all'improvviso imposizione della zona arancione che ha creato ulteriori problemi ai ristoratori dovendo rinunciare appunto senza preavviso ai servizi della domenica davvero importantissimi per le loro attività. E anche il Corriere Adriatico naturalmente ricorda il via alla consegna dei buoni spesa, dei buoni per bambini e dei buoni per le cessazioni e attività derivati dal milione di euro del quale beneficia il comune di Pesaro. Un esercito di volontari per i voucher. Grande operazione sociale in campo. Nei quartieri proseguirà anche oggi la distribuzione alle famiglie dei bonus spesa e bambini. Vedete qui in foto la partenza dei volontari per la consegna che è cominciata appunto domenica e c'è anche chi si muove in monopattino. Andiamo avanti e ricordiamo come il Covid si è portato via anche Ettore Franca, il cultore del territorio di Villa Caprile. Notizia che vi abbiamo già letto nel resto di Carlino. Franca lo vedete qui in foto. E' scomparso ieri. Tanti docenti del Cecchi sono stati i suoi alunni. Aveva 78 anni ed era stato tra i fondatori dell'Olea. Il cordoglio di Ricci che dice Pesaro perde un suo figlio illustre. Altro lutto, quello che riguarda Edo Ziccarelli. Il mondo della vela piange. Edo Ziccarelli scomparso a 75 anni. Ricordiamo sempre che ci sarà il funerale mercoledì nella chiesa del Porto. E poi ci spostiamo a Tavuglia con il caso del biodigestore già contestato nei giorni scorsi dal sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci. A dar manforte a questa protesta anche l'ex sindaco di Tavuglia Giancarlo Borra che dice Biodigestore a Talacchio, scelta scellerata. Il territorio diventerà ricettacolo di tutti i rifiuti. L'ex sindaco di Tavuglia evidenzia anche la prossimità a Padiglione Case Bernardi e al nuovo TMB presso la discarica. E dunque c'è stata la decisione di collocazione a Talacchio ma non ha fermato appunto lo scetticismo e le proteste per questa appunto decisione di costruirlo nel territorio di Vallefoglia che a quanto pare non lascia indifferente anche il territorio di Tavuglia. Da Tavuglia a Urbino ho promosso con tenacia la città fa male al cuore vederla deserta. Parlare è Lorenzo Tempesta, presidente di Urbino International Center preoccupato per le misure anti-covid che minacciano le tante attività turistiche e culturali di Urbino. A Urbino intervengono anche le sardine che invitano Gambini a staccarsi da sgarbi e carriera con il movimento locale che critica la provocatoria violazione della legge riferimento anche qui alla cena effettuata a San Mareno da Gambini con sgarbi e carriera. Proseguiamo e ci spostiamo a Fano con una notizia che riguarda la statua dell'Esippo con i fanesi nel mondo impegnati con una grande mostra per chiederne il ritorno. Il progetto per il 2021 è stato annunciato dal sindaco Seri così la città si porrà all'attenzione internazionale per rivendicare appunto la statua attribuita allo scultore l'Esippo esposta al Getty Museum. Sempre a Fano la CNA con la voce di Fausto Baldarelli responsabile territoriale della CNA di Fano che vedete qui dice come Fano sta rischiando di perdere altri cantieri con il responsabile che invita Comune e Regione a favorire gli investimenti. Poi da Fano verso l'entroterra torna ad accendersi il riflettore sulla ferrovia Fano-Urbino luogo del cuore FAI mentre si rilancia la sua apertura. Vedete qui un tratto della linea ferroviaria Fano-Urbino che è stata dismessa ormai nel lontanissimo 1987 ma che oggi è il quinto posto marchigiano nel concorso dei siti da recuperare e proteggere attivando fondi e bandi. Sul tema l'assessore regionale Baldelli cambia le priorità precedentemente fissate da Ceriscioli, Biancani e Ricci no a una pista ciclabile vicino all'ex ferrovia un progetto che a dire di Baldelli ostacolerebbe il ripristino favorendone lo smantellamento definitivo. A terre roveresche si parla di tari la nuova tarifazione non è per niente puntuale le critiche arrivano dalla minoranza di terre roveresche sul nuovo metodo di calcolo per quel che riguarda il regolamento di questo tributo. Ci spostiamo ora a Pergola perché da oggi verrà chiuso il ponte di Bellisio questo perché la zona arancione limita i transiti e dunque limita anche i disagi nel effettuare i lavori sul ponte in questione il collegamento è fondamentale tra Pergola e Fabriano e i lavori sono previsti per un mese dunque sarà eliminato il transito a senso unico alternato con semaforo per ripristinare il doppio senso di marcia un restringimento che era derivato dall'alluvione del 2012. Ed era questa l'ultima notizia di cronaca del Corriere Adriatico entriamo nelle pagine di Sport e cominciamo dal calcio e dalla Vispesro una vis che non deve mollare il presidente Bosco interviene dopo il terzo capo consecutivo con la squadra in piena zona play out nessuno pensava di trovarsi in una situazione simile ma sono convinto che risaliremo vedete qui il presidente Mauro Bosco presidente forestiero che comunque è sempre vicino alla squadra in ogni partita Vische ha perso sabato nel turno d'anticipo 2-0 contro la San Benedettese terza sconfitta consecutiva la vedete qui in un'immagine e dunque una crisi nera alla quale sono conseguite anche le dimissioni del direttore generale Vlado Borzan precedenti alla sconfitta di San Benedetto e rassegnate venerdì sera ampio spazio alla Vispesro che si concentra col Corriere Adriatico che si concentra anche con le prossime tappe Carpi e Padova tappe importanti prima del derby col Fano una settimana di lavoro per poter dare una sterzata in classifica e c'è anche l'intervista al calciatore Enrico Pezzi che vedete qui in foto così non va ora bisogna fare squadra Pezzi e la Vische Stenta dobbiamo essere sinergici ordinati e coordinati Alma-Viuiumentus Fano la gara con l'Arezzo è sempre in forte dubbio il tecnico dei Toscani Camplone è scettico sulla disputa della gara vedete qua Andrea Camplone tecnico dell'Arezzo che anche lui con il Covid ricordiamo che il Fano questa domenica non ha giocato la partita con il Legnago per i tanti casi di positività al Covid-19 nella squadra veneta che dunque non hanno nemmeno consentito di provare a effettuare questa partita e per il Fano si prospetta due rinvii di fila perché l'Arezzo che addirittura viene da tre rinvii per Covid-19 è sempre più vicino a effettuare il quarto rinvio contro i Granata passiamo ora al basket anche la VL non è scesa in campo per i casi di Covid che la riguardano e che hanno frenato la disputa della gara contro Bologna ora la VL aspetta i nuovi test il ritorno agli allenamenti della Carpegna Prosciutto è legato agli esiti dei tamponi di domani solo venerdì però si potrà sapere quanti giocatori saranno disponibili per la sfida di Reggio Emilia nell'articolo c'è anche una proposta di Baraldi della Lega Basket e amministratore delegato della Segafreddo Bologna che dice bisognerebbe fermarsi due mesi si fa notare nel Corriere Adriatico come sia stata anche una giornata giocata a metà tanti i casi di Covid con il virus che domina sotto i tabelloni continua ad aumentare il numero di match rinviati e Brindisi invece mostra continuità di rendimento con un'altra vittoria passiamo ora al pallavolo con la Megabox Vallefoglia tiebreak amaro la vetta resta un miraggio la Megabox ha perso a Montecchio 3 a 2 al tiebreak contro i calabresi contro le calabresi di Soverato Soverato non molla mai e riesce a piazzare la spallata vincente nell'ultimo set andiamo avanti e parliamo di Franco Morbidelli pilota ha cresciuto a Babuce di Tavuglia che ha vinto la sua terza gara del moto mondiale Morbidelli domina a Valencia in testa fin dal primo giro il pilota della Yamaha Petronas resiste all'assalto finale di Mir Valentino Rossi invece è parso in ombra nella gara che assegna appunto il mondiale allo spagnolo Joan Mir in moto 2 invece chance per il fratello di Valentino Rossi Luca Marini che ha un'opportunità per il titolo ed era questa l'ultima notizia del Corriere Adriatico andiamo ora a leggervi anche lo sport del Carlino del quotidiano sportivo anche qui un'edizione figlia delle poche partite giocate questa domenica non ha giocato la Vuel non ha giocato l'Alma Juventus Fano ha giocato la Vispesero ma al sabato e anche qui c'è il focus sul presidente Mauro Bosco che garantisce faremo di tutto per salvare la Vispesero dalla società trappelano le rassicurazioni del Patroni in un momento difficilissimo ma trovare rinforzi adesso è un rompicapo riferimento al fatto che la Vispesero non vuole aspettare gennaio per rinforzarsi ma sta scandagliando il mercato degli svincolati soprattutto per cercare un centrocampista piace l'ex Feralpi Salò e Pesce ma potrà svincolarsi solo a dicembre e a questo punto si legge nell'articolo conviene aspettare il mercato di gennaio di spalla i numeri della Vispesero prime 11 gare solo una volta era andato peggio 8 punti nelle prime 11 giornate per vedere di peggio in terza serie bisogna tornare a 40 anni fa al 69 70 quando nel corrispondente arco di giornata aveva raccolto solo 3 punti poi c'è l'analisi tecnica errori sfiducia remissività gli ingredienti della crisi emblematiche anche le parole del centrocampista a pezzi sembra che non ci crediamo abbastanza andiamo a vedere anche quello che si dice dell'alma Juventus Fano alma da un focolaio di covid all'altro rinviata la partita con il legnago ora si punta all'Arezzo che però ha 18 giocatori positivi al covid oltre al tecnico Camplone Flavio Destro lo vedete qui in foto è una situazione al limite ma spero che alla fine si possa scendere in campo ricordiamo ancora il Fano domenica non ha giocato contro il legnago e ora difficilmente giocherà contro l'Arezzo sempre per questi casi di covid 19 che stanno frenando le dispute del campionato di serie C così come hanno frenato la VL che comincia a riflettere su quando potrà tornare in campo l'ipotesi secondo il resto del Carlino è quella del 6 dicembre perché è difficile che domenica si possa giocare con Reggio Emilia poi il 29 novembre lo stop per le nazionali è probabile la ripartenza da Treviso dunque è possibile davvero una lunga attesa per rivedere in campo la VL o meglio rivederla in tv perché naturalmente si gioca a porte chiuse in foto vedete Tyler Kane che è stato il primo caso positivo alla Carpegna Prosciutto Basket che ieri ha terminato i 10 giorni di quarantena e domani si potrà sottoporre al tampone sperando che sia negativo per potersi tornare a allenare questo vale per tutti i cestisti della VL chi è risultato negativo può tornare infatti in palestra andiamo a vedere anche quello che è successo nel campionato di basket come si può vedere si sono giocate soltanto quattro partite Milano viaggia sull'ottovolante e tempo di brindisi per Visconti la capolista supera Cantù nel derby il Bebi e Udom mantengono i pugliesi in scia vincendo a Sassari giocate solo quattro gare su otto Ruzzi e Spinge Varese Campogrande Baldasso non bastano a Roma e infatti ricordiamo le partite giocate Sassari e Brindisi 87 a 100 Brescia 73 a 80 Varese Roma 98 a 88 Cantù Milano 71 a 89 oltre alla partita della VL sono state rinviate Reggio Emilia Fortitudo Bologna Reier Venezia Trieste e Treviso contro Cremona andiamo anche facciamo un passo indietro perché l'avete visto in prima pagina il trionfo di Franco Morbidelli messo in bella evidenza dalla prima del Carlino e celebriamo anche su questo quotidiano il terzo capolavoro di Morbido tutta Italia tifa per lui Franco la spunta dopo un duello da brividi con Miller resta da blindare il secondo posto in classifica dopo che ieri si è laureato campione del mondo per la prima volta lo spagnolo Johan Mir nell'articolo si ricorda come anche Valentino Rossi è contento del dicesimo posto e ha detto avevo bisogno di finire una gara concludiamo la nostra lettura del resto del Carlino con il volley Megabox altro KO interno assalto alla vetta fallito Soverato brilla di più e le Tigri pagano pegno la sfida di domenica e invece a rischio rinviò sfida che riguarda la partita con Montecchio Maggiore perché appunto ci sono dei casi positivi negli avversari una notizia che riguarda anche il mondo della ginnastica la federazione resta in mano al fanese Gerardo Tecchi il fanese Tecchi è stato confermato alla presidenza nazionale anche per i prossimi quattro anni lo vedete qui in foto al momento della elezione abbiamo costruito tanto da oggi programmiamo il futuro tra le principali criticità restano gli impianti sportivi servono strutture adeguate ed era questa l'ultima notizia l'ultimo articolo che siamo andati a consultare di questa nostra segna stampa dei quotidiani locali prima di salutarci vi ricordiamo i tanti appuntamenti a cominciare da quello che inizierà tra un paio d'ore davvero una prima assoluta per Rossini TV l'inizio di Casa Rossini dunque non perdetevelo alle 10 in diretta come potete vedere in grafica ogni lunedì mercoledì e venerdì Casa Rossini il nuovo format in diretta il nuovo salotto televisivo di Rossini TV condotto da Paolo Pagnini dunque ogni lunedì mercoledì e venerdì in diretta alle ore 10 con replica alle 16 e lo vedete anche con replica martedì giovedì e sabato alle 15 e 15 e alle 23 concluso questo appuntamento con Casa Rossini alle 11 c'è FixFit l'allenamento da casa dunque c'è una variazione oraria per quello che riguarda FixFit che cambia orario e sarà dal lunedì al venerdì appunto alle 11 e alle 18 andiamo anche a vedere la prima serata di Rossini TV ce l'avete chiesto in tanti e ora ve lo riproponiamo il documentario su Villa Miralfiore che sarà proposto questa sera alle 21 e 15 appunto su Rossini TV canale 633 è davvero tutto per questa rassegna stampa dei quotidiani locali ora vi lasciamo al meteo e vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV tornerà puntuale alle 19 e 40 con il nostro telegiornale Rossini News un saluto da tutta la redazione e vi auguriamo una buona continuazione di giornata con i programmi di Rossini TV e vi auguriamo